Andati a vuoto i tentativi di rinvio a maggio, a meno di sorprese provenienti dal governo gialloverde, la competizione elettorale per le regionali del prossimo 10 febbraio entra nel vivo. Nel centro-sinistra, l'aspirante presidente Giovanni Legnini, dopo aver sciolto le riserve, lavora alacremente per la composizione delle liste e per il programma elettorale, puntando con determinazione ad allargare la coalizione alle liste civiche e alla società civile. Oltre la metà dei sindaci abruzzesi ha chiesto la sua candidatura, alla fine lei si è convinto? Sì, e sto lavorando per definire un progetto politico che abbia caratteri innovativi, che si rivolga alla società abruzzese, all'intera società abruzzese, con un progetto di governo capace di affrontare le emergenze di questa regione, di riformarla in profondità, di far sì che essa conti sempre di più sullo scacchiere nazionale ed internazionale. Dunque la coalizione che lei rappresenta non sarà etichettata esclusivamente centro-sinistra, ma molto più ampia, mi pare di capire. Non solo sarà più ampia, ma io ho chiesto e sto definendo con molte personalità della società civile l'adesione a questo progetto e far sì che l'espressione del mondo del lavoro, dell'impresa, delle professioni, del volontariato, i sindaci possano essere i protagonisti principali di questo progetto politico. Si tratta di un tentativo molto nuovo, i cui contenuti e i cui contorni definitivi illustrerò nei prossimi giorni. Quante liste pensa di presentare il 10 febbraio? Questo lo dirò nei prossimi giorni, non appena avrò concluso questa opera compositiva che non è semplice, ma che sta dando frutti importanti. L'Abruzzo, come tante altre regioni del Sud, ha tante emergenze. Da dove partirà da Presidente? Riformando la struttura e l'apparato regionale, restituendo all'istituzione quell'autorevolezza, quella forza propria di un organo legislativo, puntando sul lavoro, sulla crescita, stimolando fortemente l'opera di ricostruzione delle due ricostruzioni che purtroppo negli ultimi mesi hanno subito un grave rallentamento. Nel centro-destra, nonostante alcuni mal di pancia, resta in piedi la candidatura del senatore Marco Marsilio proposta da Fratelli d'Italia, ma non è da escludere che le liste civiche potrebbero presentare un loro candidato al vertice della regione. Senza ostacoli interni, infine, la candidatura della pentastellata Sara Marcozzi.